Ciao, sono Carlotta e a novembre ho deciso di buttarmi in questa avventura con la mia socia Martina. Ho sempre lavorato in questo settore, fin da quando ero piccola, perché i miei genitori hanno sempre avuto attività di questo genere, quindi sono cresciuta in mezzo a tutto questo. Ci siamo conosciute giocando a basket e poi abbiamo deciso di lanciarci in questa nuova sfida che per il momento sta andando molto bene e siamo molto felici. Ciao